A Montori oggi brilla una stella, Elisa Coclite in arte Casa di Lego ha vinto X Factor e non si parla che di lei, non solo qui ma in tutta Italia. È una bellissima storia, una ragazza di 17 anni partita a Montori, è arrivata a Milano per partecipare a un talent show e stravince meritatamente su tutte le pagine dei giornali. E' una vittoria non solo di Montori ma dell'Abruzzo perché avere una stella come lei, un talento così cristallino è un valore aggiunto per tutto l'Abruzzo. Tra l'altro questa vittoria, questo momento di celebrità e questo inizio di una carriera sicuramente brillante capita nel momento forse più drammatico per questa comunità. È un periodo difficilissimo che abbiamo credo sorpassato per fortuna, anche la famiglia di Elisa purtroppo è stata colpita duramente dal coronavirus ed è un messaggio bellissimo, un messaggio bellissimo di speranza e soprattutto un messaggio di quello spirito abruzzese di tenacia e quando la tenacia, la grinta e la voglia di fare si abbinano al talento i risultati arrivano. Sindaco, come l'accoglierete quando tornerà da Milano? Perché oggi è ancora a Milano giustamente a riposarsi e a godersi la vittoria. L'accoglieremo in comune, siamo orgogliosi di avere una concittadina come lei e spero che ci possa dare anche un supporto per il rilancio di Montorio che passa anche attraverso le iniziative culturali, sociali e di aggregazione per i giovani.